Buonasera amici di Pisa, sono gli amici, facciamole questo applauso spontaneo, che vado a rendere già magistrato, quello che sarà davvero il magico, buonasera a tutti, a tutti gli amici di Pisa Sposi, il nuovo Expo dedicato al mondo degli sposi, organizzato da 360 eventi, che terrà aperti i suoi stand per tutto il weekend, domani dalle ore 14.30 alle 20 e domenica dalle 10.30 alle 20 con l'orario continuato. Pisa Sposi giunge quest'anno alla sua quattordicesima edizione, ha voluto proprio suggellare questo importante traguardo, regalandomi un evento senza precedenti per il settore cerimoniale della provincia di Pisa. Io sono qua per darvi l'ufficiale benvenuto alla prima edizione del Gran Galà Sposi 2018, con la regia e direzione artistica Niongo Bartolini, la direzione musicale del maestro Andrea Senesi e il management modello a cura di Benedetta Falleni. La pubblicità che ha preceduto il Gran Galà di questa sera, lo vedete anche qua alle mie spalle, lo ha definito come The Best Live Show 2018, credetemi, ce ne sono davvero tutti gli ingredienti. Lo show è infatti una fusione di emozioni fornita dalla musica, dalla bellezza, dalle scenografie e luci e ovviamente dall'importanza degli abiti. Vi anticipo anche che lo show non finirà quando penserete che sia finito perché ci sarà un ospite davvero speciale per il Gran Finale. Io ho provato così umilmente a descrivervi quello che stiamo per vedere in passerella, ma sono convinto, pienamente convinto, che certe cose non vadano descritte, ma soltanto vissute. Signore e signori buonasera, Digital Dream e 360 eventi, vi danno il benvenuto alla prima edizione del Gran Galà a sposi. L'atelier Viva le Donne, il caffè di artisti, gli augurano. Buon avviso. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.